Beh essere preoccupati che non si disponi di pelle particolarmente sana e vuole fare qualcosa al riguardo. Se questa è la vostra condizione, non ti preoccupare, questo video fornirà la soluzione migliore per tutti i vostri problemi di pelle e guida completa su come ottenere da cosa mangiare alla migliore cura della pelle per comprare, non dovrai chiedere come ottenere di nuovo la pelle perfetta. Ecco i suggerimenti per la cura del viso per ottenere quel bagliore che hai sempre desiderato. Guarda i nostri video per i segreti di bellezza, affronta i tuoi problemi di cura della pelle e abbiamo arrotondato i consigli degli esperti sulla cura quotidiana della pelle, tenendo a bada le imperfezioni e migliorando la tua bellezza naturale per la cura intensiva della pelle o no, coccolarsi eseguendo le basi. La pelle ha bisogno di respirare durante la notte e il trucco impedisce che, come stare suostruisci durante la notte i pori che possono causare macchie e punti neri. Prima di dormire solo mettere un po' di olio d'oliva o olio di cocco su un batuffolo di cotone e massaggiare delicatamente l'olio sul viso per vai a dormire e poi al mattino lavati bene il viso con acqua fredda. Applicare la protezione solare con SPF di almeno 15 che blocca sia i raggi uva e uvv. Dal momento che una vita di esposizione al sole può causare le rughe, macchie senili e altri problemi della pelle, è necessario proteggere la pelle dal sole. Assicurati che il tuo crema non comedogenico o non anacenico in modo che il prodotto non tenda a bloccare i pori. Tenere una traccia delle vostre abitudini alimentari. Mangiare frutta fresca, verdure, sufficienti proteine e vitamine. Una dieta ricca di vitamina C e basso contenuto di grassi e zuccheri promuove la pelle radiosa. Si consideri un alimento dietetico basso livello di zucchero che mantiene i livelli di insulina verso il basso e permettendo alle cellule di mantenere un sano equilibrio. Avere una camminata veloce intorno a te, riscaldando il tuo corpo con il sudore dopo aver lavorato e affrontato il viso. 20 a 30 minuti dentro e intorno alla tua zona. Cerca di dormire almeno 8 ore ogni notte, se non dormi abbastanza la pelle si stanca, quindi avere il giusto sonno ogni giorno mantiene la pelle idratata. Bevi molta acqua ogni giorno almeno 8 bicchieri e bevi acqua da una bottiglia di colore blu dato che ha un effetto rinfrescante. Puoi anche applicare il miele sul viso due volte o tre volte a settimana per lenire e curare la tua pelle in modo naturale. Provare a usare impacchi naturali per il viso che contengono mitti multani, aloe vera, il neima, tulsi, curcuma, sandalo, tanfora, acqua, estratti di frutta come papaya che funzionano molto bene anche aumentato. Assicuratevi che il vostro detergente contenente acido alfa idrossile o acido idrossile beta. Dopo la pulizia applicare una lozione che contiene perossido di benzole consigliato da specialisti della pelle. Prova a utilizzare scrum naturale per nutrire la pelle che aiuta la pelle a respirare meglio. Inoltre, se indossi occhiali o occhiali da sole, assicurati di pulirli frequentemente per evitare che l'olo ostruisca i pori attorno agli occhi e al naso. Applicare la polpa di ciliegie fresche sul viso prima di andare a letto e lasciarlo per 15 minuti e lavare con acqua tiepida. Respirare in un modo giusto vi aiuterà a sbarazzarsi di macchie e brufoli. Questa tecnica di respirazione vi fornirà ritmi naturali che armonizzano il corpo, la mente e le emozioni e aiuta a rilasciare lo stress accumulato. Pratica le tecniche di gestione dello stress come esercizi di respirazione, yoga e meditazione, la pelle diventa più radiosa quando si rimane calma e medita. Evitare l'uso di creme solari durante le stagioni fredde. Salta la cura della pelle prima e dopo un allenamento. Applicare un toner per ridurre al minimo la produzione di olio prima di uscire. Lavare o macchia la pelle dopo e quindi applicare burro di karité o olio di petrolio o di noce di cocco di oliva per idratare la pelle e evitare l'acqua calda come si asciuga la pelle eccessivamente. Evitare i prodotti che aumenta il gonfiore degli occhi al mattino. Evitare di mangiare cibi piccanti e fermentati, sale, agrumi, cibi fritti, cibi spazzatura. Se si continua a mangiare questo tipo di cibo, non può evitare di brufoli. Non pop brufoli perché può portare a più gonfiore, arrossamento, e anche cicatrici. Non dimenticare di coccolare la pelle di tutti i giorni perché la pelle è il primo strato del sistema immunitario. Saltare i lunghi, docci di vapore e optare per più brevi, spray più fresche. Con l'avanzare dell'età la nostra pelle diventa più sottile e più secco. Cose come rughe, macchie senili, occhiaie e pori dilatati, si trasformerà in su come ospiti non invitati, al fine di evitare queste complicazioni. Si prega di seguire i nostri metodi di video per ottenere la pelle bella e radiosa e sentirsi rilassato.